... Un gol su Sanchez con Mahomes Rodriguez, la palla passa, perché il Brasile stava lanciando per fuoco la connessione per Mahomes Rodriguez, invece loro ha subito cinque falli, ma c'è un fallo per la Molina. Questo è un gioco per un po' S&P, ovviamente è un tipo di fallo, di fallo di commesso, in questa persona che viene poi l'azione di intervento, ma con questo fallo è diventamente una... Queda chiaro che il Brasile non cae molto bene.